Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli l'aceto e dicevano Sopra di lui c'era anche una scritta Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo Non hai alcun timore di Dio? Tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose In verità io ti dico Oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore La festa di Cristo Re chiude l'anno liturgico. È la grande conclusione di questo cammino di preghiera che poi ricomincia con l'Avvento la domenica prossima. La Chiesa ci invita a fissare lo sguardo così alla fine di tutto questo cammino dopo aver rivissuto e celebrato i misteri della vita della nascita della vita e della passione di Cristo ci invita a fissare la fine, il fine, la meta E la meta qual è? La meta è Gesù La meta è Cristo Re dell'universo Re dell'universo non è una nostalgia monarchica di qualche potere Re dell'universo vuol dire che tutto l'universo come ci ha ricordato Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si tutte le creature, tutto l'universo sta camminando verso Cristo è lui il punto omega, come diceva Teilhard de Chardin del cammino dell'universo, anche dell'evoluzione della natura stessa e quest'anno la liturgia ci propone una pagina strepitosa che c'ha solo San Luca il famoso dialogo con quello che noi chiamiamo il buon ladrone non sappiamo se era un ladrone, era un malfattore dice un delinquente, dice il Vangelo siamo sul Calvario, sulla croce mentre tutti intorno stanno deridendo Gesù lo stanno insultando, stanno dicendo ha salvato gli altri, adesso salvi se stesso se è il Cristo scenda dalla croce anche l'altro malfattore gli dice così ma c'è uno, c'è questo ladrone cosiddetto ladrone buono santo, venerato nella liturgia che lo rimprovera rimprovera il suo compagno tu sei condannato alla stessa pena e non hai timore di Dio noi ce la meritiamo questa pena noi abbiamo sbagliato la vita siamo stati dei criminali, dei delinquenti ma lui non ha fatto niente di male lui riconosce che Gesù è innocente e nonostante questo muore come loro come l'ultimo dei criminali e allora c'è quella bellissima preghiera che può essere la preghiera di tutti noi Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno ecco una preghiera che viene dal cuore ricordati di me Gesù perché io credo che tu sei davvero un re un re che muore sulla croce cioè che dà la vita per i propri sudditi tra virgolette il contrario di quello che succede nel mondo nel mondo sono i sudditi che devono difendere e dare la vita per il re nel regno di Dio è il re che dà la vita per i suoi fratelli i suoi amici e la risposta di Gesù è altrettanto fantastica oggi sarai con me nel paradiso l'unica volta che nel Vangelo ricorre questa parola paradiso che vuol dire giardino per un popolo che vive nel deserto è il massimo della vita vivere nell'oasi vivere nella bellezza vivere nella pienezza ma soprattutto questa pienezza e questa bellezza derivano da quella promessa con me sarai in paradiso essere con Gesù è il paradiso che comincia da qui il regno di Dio comincia da qui quando siamo con Gesù e quando Gesù è con noi ecco quando ci lasciamo amare da Gesù allora entriamo nel regno allora il Signore è il nostro re quando accogliamo questo amore e non lo perdiamo di vista e ci crediamo anche quando non sembra che siamo amati anche quando la vita ci fa soffrire anche quando Dio sembra tacere nascondersi ma noi sappiamo che il Signore c'è come dice il Salmo 23 non ho alcun timore perché tu sei con me il Signore è con me come dice l'Angela Maria il Signore è con te non dimenticarlo mai non dimenticare non dimenticarlo non dimenticarlo non dimenticarlo non dimenticarlo non dec sufficiently